Lo scorso 15 luglio la Camera di Commercio di Cosenza è stata la prima fra le Camere di Commercio italiane ad attivare la SPID, ovvero il sistema pubblico di identità digitale, uno strumento fortemente voluto dal Governo. Da questa estate quindi negli uffici dell'ente Camerale Bruzio è possibile ritirare le proprie credenziali SPID in modo da consentire alle imprese l'accesso a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Si tratta di uno strumento utile, innovativo e di facile accesso che consente alle imprese di velocizzare i tempi ed a proposito di velocità la Camera di Commercio di Cosenza ha bruciato tutti sul tempo trattandosi di una prima in Italia e allo stesso tempo invita ora le imprese ad attivare il servizio per poter usufruire di tutti i vantaggi che comporta. Ricordiamo che attraverso lo SPID con una sola chiave si potrà accedere a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e si potrà farlo dalla propria PC e dalla propria smartphone, un servizio chiaramente gratuito la cui attivazione entro il 2017 sarà obbligatoria per tutta la pubblica amministrazione.